Da con Berardi che va al cross cercando Zazza, si codina il tiro, un gol strepitoso di Zazza, un gol strepitoso di Zazza, il pallone grossato da Berardi, coordinazione perfetta da parte di Zazza e palla a calciata col sinistro che è andata a infilarsi a mezza altezza dall'altra parte. Il Balsano che tenta di entrare in aria, ancora Balsano il cross basso, Zau! Gol! Marco Zau sullo spunto di Balsano nel settore destro, il tocco sotto di Zau che pareggia immediatamente.